Luca Giacosa il marito della Marta vale a dire che insieme alla signora Isabella sono il cuore di questa piccola azienda di Sambuco mi ricordo che l'idea che ho avuto affrontando questa salita verso la zona di allevamento e di produzione è stato molto molto bello perché invito comunque chiunque a fare un salto in questa in alta valle perché ne vale veramente la pena valle Stura molto bella non è poi così lontano come uno può pensare una piccolissima azienda che come ho avuto modo di introdurre prima lavora in maniera veramente incredibile il latte di queste 120 capre e la storia è veramente assolutamente interessante perché uno perché si tratta di una zona molto particolare Sambuco fino agli anni 20 è stata semplicemente una zona di pastorizia, di coltivazione molto diciamo così povera come tutta l'alta valle Stura con l'avvento delle necessità militari sono state create queste grandi caserme questo è diventato una zona militare strategica molto importante caserme che oggi per chi ha esperienza magari dell'alta valle di Susa sono uguali a quelle di Cesana se avete presente queste costruzioni molto lineari, anonime dentro le caserme oggi ci sono le capre giusto? sì, ci sono le capre noi abbiamo la stalla dentro il vecchio bar delle caserme e il fienile dentro il cinema e la banca interesse quanto danno quest'anno? adesso sono passate del comune insomma speriamo di essere un po' tranquilli scherzi a parte, la storia di questa azienda brevemente ma dicendo veramente le cose importanti è molto molto giovane nonostante la famiglia sia originaria di Sambuco sì, la famiglia di mia moglie è originaria di Sambuco Marta ha iniziato nel 2009 ad allevare capre dopo alcuni anni io l'ho conosciuta abbiamo cominciato a lavorare insieme abbiamo deciso di tenere delle capre autoctone di una razza che si chiama l'alpina comune che sono molto rustiche quindi permettono di essere mantenute al pascolo fino a inverno inoltrato se non c'è neve hanno poche esigenze a livello alimentare quindi non bisogna spingerle come negli allevamenti intensivi ma danno poco latte ma molto buono da cui poi nel 2012 mia moglie ha cominciato con un caseificio a trasformare il latte in diversi tipi di formaggio aveva già esperienze in un caseificio che le è servito per iniziare poi ha seguito dei corsi scambi di informazioni con altri allevatori altri produttori insomma pian piano sta imparando stiamo imparando tutte e due sì, questo è interessante però la sua moglie è originaria di Sambuco quindi ha già avuto delle esperienze anche in zona però lei non è di questo mondo non c'entro nulla non c'entravo io vengo da Alba e ho conosciuto Marta facendo delle foto sono capitata a Sambuco per seguire i pastori che venivano predati dai lupi mi piace mi piace mi piace mi piace Grazie a tutti.